Eccoci di nuovo a casa Sanremo, comodamente seduti, oggi abbiamo incontrato una de rosa. Ciao a tutti! Allora, segui per presentare questo tuo singolo, facciamolo vedere, si chiama Diva. Diva? Sì, un po' Diva come tutte le donne del XX secolo. Oggi sai che si diventa facilmente Diva. Ma bisogna essere anche bravi a rimanirci poi, Diva? Questo sicuramente, ma prima di entrare veramente nella grande macchina, non sai mai se sei pronto davvero. O forse non lo sarai mai. E che ti trovi in questo vortice, punto e basta. Dopo questo singolo, che mi sembra di aver capito che punto è tutto ironico, ti abbiamo sentito anche ieri nel tuo showcase, ci sarà anche un album? L'album è già pronto, ma diciamo che bisogna incuriosire prima le persone, bisogna catturarle, che è una cosa difficilissima. Cos'è Sanremo? Sanremo è una bella città, verrei a vivere volentieri a Sanremo, perché si muovono tante belle cose, anche se non vai all'Ariston. E quindi il festival cuora tanto valore? Guarda, è una tradizione. E poi le critiche anche sono una tradizione. Tutto quello che c'è intorno al festival ci deve essere per forza.